Domenica 12 giugno si torna a votare per un referendum abrogativo, non succedeva dal 2016, si torna a votare per una tematica specifica sul tema giustizia con 5 quesiti che argomentiamo oggi con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, Cinzia Fenisi. Dei 5 quesiti sostanzialmente 3 riguardano l'ordinamento giudiziario, quindi la categoria dei magistrati e altri due invece hanno delle ricadute un po' più ampie perché uno riguarda il decreto cosiddetto Severino e l'altro diciamo i presupposti applicativi delle misure cautelari. Dunque per quanto riguarda le misure cautelari forse è quello che ha un impatto più immediato per una più vasta platea di cittadini. Ormai abbiamo sentito tutti che per applicare una misura cautelare che è quella misura che consente dalla carcerazione fino a delle forme più lievi di coercizione come gli arresti domiciliari e via scendendo, prima di una condanna definitiva in presenza di alcuni presupposti. Da una parte i gravi indizi di colpevolezza per il fatto per cui si procede e poi i tre presupposti delle esigenze cautelari, pericolo di inquinamento probatorio, pericolo di fuga e pericolo dell'eliterazione del reato. Sostanzialmente si chiede con il sì di eliminare la parte che riguarda la possibilità per il giudice di disporre una misura cautelare personale in presenza del pericolo dell'eliterazione del reato. Allora le ragioni del sì i promotori sostanzialmente mettono in evidenza che nel nostro ordinamento il numero delle persone ristrette in carcere, la custodia cautelare in carcere, il più grave delle misure cautelari naturalmente, è in proporzione molto alta rispetto alle persone che sono in carcere per una condanna definitiva e rappresentano che la maggior parte delle misure cautelari sono applicate proprio sulla base del pericolo dell'eliterazione del reato. Mi dicono i fautori del no, esistono già dei limiti che consentono al giudice di applicare o non applicare la custodia cautelare in ragione di queste esigenze. Passiamo alla Severina. Allora il decreto Severino sappiamo che è stato emanato nel 2012 ed è una norma emanata per combattere la corruzione. Fondamentalmente è un testo di legge che prevede diverse ipotesi. Fondamentalmente le più conosciute sono quelle che riguardano la ineleggibilità, incandibilità e comunque la decadenza dei politici in presenza di condanna definitiva per gravi reati. La norma, il decreto Severino, prevede anche un'altra ipotesi, diciamo nell'articolato normativo, che è quella della sospensione dalla funzione in ipotesi di condanna non definitiva. I fautori del sì, coloro che sono in promotore del referendum, rappresentano che è iniquo e contrasta col principio di non colpevolezza il fatto che un amministratore, un parlamentare, un amministratore locale, venga allontanato dalla funzione e quindi venga fatto uscire dal circuito politico dove è stato eletto la carica pubblica sulla base di una sentenza non definitiva. I fautori del no mettono fondamentalmente in evidenza, diciamo questo, che il decreto Severino non riguarda soltanto, per come è formulato il quesito referendario, l'abrogazione non riguarda solo questi pazzesi specifici della sospensione. Ma riguarda anche l'incandidabilità, ineleggibilità e decadenza per le condanne definitive. Quindi dicono sostanzialmente, per come è stato formulato il quesito, fate cadere tutta la norma. Vado molto rapidamente ai tre quesiti sulla magistratura. Il primo riguarda le firme, diciamo che attualmente i magistrati che si vogliono candidare al CSM devono presentare a sostegno della propria candidatura. Sappiamo cos'è il CSM, è l'organo di autogoverno della magistratura. Il magistrato che intende candidarsi all'elezione al CSM deve presentare un numero minimo di firme a sostegno, di sottoscrizione a sostegno di 25. I promotori del referendum chiedono di eliminare questa disposizione per far sì che qualunque magistrato voglia candidarsi possa farlo senza avere il sostegno di altri sostanzialmente colleghi. Mentre invece i fautori del NOM mettono da un lato in evidenza il fatto che si tratta di una cosa minimale, 25 firme, che la riforma dell'ordinamento non può passare per una simile abrogazione che è appunto, come dico, minima rispetto all'assetto e comunque è stato fatto presente da alcuni professori di diritto di procedura civile in particolare che in realtà ogni forma di candidatura ad una funzione elettiva passa attraverso l'associazionismo. Allora, la separazione delle funzioni, sostanzialmente le funzioni sono due. Quando una persona vince un concorso in magistratura può decidere di esercitare o la funzione giudicante, che è quella del giudice, o la funzione recurrente, che è quella del pubblico ministero, di colui che sostiene l'accusa in giudizio. Attualmente, per come l'assetto normativo è congegnato, sono possibili quattro passaggi nel corso della carriera del magistrato e i fautori del referendum vogliono eliminare questa possibilità. Sostengono, diciamo, in particolare i sostenitori del referendum che sostanzialmente, diciamo, per garantire la terziarietà del giudice deve essere inibito questo passaggio da una funzione all'altra, che invece, diciamo, crea una commissione che non è in linea, diciamo, con i principi del giusto processo. Il nostro processo è un processo di parte, con un giudice terzo imparziale. I fautori del nome tenono invece in evidenza che la vittoria del sì creerebbe un pubblico ministero sostanzialmente proprio, diciamo, chiuso nella sua logica accusatoria, mentre il passaggio delle funzioni in realtà è una ricchezza proprio perché consente, diciamo, di comunque, in qualche modo, diciamo, il passaggio alla cultura della giurisdizionalità, cioè il fatto, diciamo, che il PM possa comunque diventare giudice o viceversa, fa sì che venga potenziato quell'aspetto, diciamo, che tipico della funzione del PM che è anche quello di ricercare prove a favore dell'accusato. Il quinto quesito riguarda, appunto, la valutazione di professionalità dei magistrati. I sostenitori, diciamo, del sì vogliono sostanzialmente che anche i membri cosiddetti laici, quindi avvocati e professioni universitari, possano partecipare a questa valutazione, mentre i sostenitori del no mettono in evidenza sostanzialmente che ci sono rischi di incompatibilità. L'invito che voglio fare, al di là della tecnicità, diciamo, dei quesiti, è di andare a votare. Il referendum è un strumento di democrazia diretta. Mi rendo conto, diciamo, della difficoltà, magari, per i cittadini di, insomma, come dire, entrare esattamente nel tecnicismo, diciamo, del quesito, però ognuno di noi si può informare, può conoscere per poter deliberare.